Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, intanto appena finita Pasquetta, quindi mi auguro che siate rilassati, sicuramente sereni, mi auguro che l'abbiate passata bene, mangiando, bevendo, come si fa in queste giornate, soprattutto Pasquetta, di solito si griglia come se non ci fosse un domani, mi auguro che voi l'abbiate passata benissimo, ma siamo qui per parlare di quello che avete detto nel titolo, cioè la Juventus vince la Future Cup e le Under 13 sono campionesse d'Europa. Allora, adesso vi spiego meglio, ho fatto sia tweet che post su Facebook riguardo questa cosa, però credo che tale imprese, perché di questo si tratta, meritassero perlomeno un video, perlomeno un video, perché le Under 13 ieri hanno vinto, è successo ieri, però ovviamente ieri non ho fatto il video, era Pasqua, avevo mandato solo il video degli Anti-J, che tra l'altro avevo programmato, ve lo dico sinceramente, perché l'avevo fatto la sera prima. Insomma, Pasqua poi ho lavorato, anche se non sembra, ho lavorato anche a Pasqua, quindi volevo fare il video ieri, l'ho fatto direttamente oggi. Tra l'altro troverete tutti i risultati sulla mia pagina Facebook e Twitter, perché come vi ho detto poco fa, comunque ho fatto già dei post riguardo a queste cose. Cominciamo dunque a livello proprio temporale, alla giornata di ieri, la Juventus femminile Under 13 ha vinto la Champions Trophy Girl, un trofeo, il Champions Trophy, che c'è anche a livello maschile. E a livello giovanile c'è da anni. A livello femminile è il primo anno che viene fatto questo trofeo, ed è veramente, anche proprio come simile, per la forma del trofeo, è la Champions di categoria. Se andate a vedere il trofeo, e vi rimando ai miei post su Facebook e Twitter, è praticamente uguale proprio alla Champions, ha soltanto una base in più. Ma detto questo, quello che contava, secondo me, è che il calcio femminile italiano è indietro rispetto ad altre realtà. Vincere un trofeo del genere vuol dire che il calcio femminile, almeno a livello giovanile, si sta pian piano, insomma, sta rincorrendo il calcio internazionale. Per quanto mi riguarda è stata una delle più belle soddisfazioni da quando seguo il calcio femminile, una delle più belle soddisfazioni da quando seguo la Juventus giovanile in generale. E non ho paura, non ho problemi a dire che questo weekend, credo che sia uno dei più positivi della storia della Juventus giovanile. Non mi ricordo tale quantitativo di imprese. Quindi sicuramente molto positivo. E quindi l'Under 13 ha vinto questo trofeo. Un trofeo che era un girone unico, con poi la finalissima vinta, tra l'altro dominandola, cioè vinta di misura ma dominandola letteralmente. E l'Under 13 femminile, che aveva già portato altri risultati positivi, mi ricordo che il primo titolo in assoluto della Juventus femminile era stata due anni fa, prima ancora della nascita della prima squadra, la vittoria della Danone Cup, oppure, ho detto anche, campionato italiano Under 13. Quindi mi ricordo che il primo titolo della Juventus nella storia, la Juventus Women, non è arrivato dalla prima squadra, ma era arrivato dalla Under 13 alla Danone Cup. Me lo ricordo benissimo, perché tra l'altro Danone Cup è un torneo famosissimo. E' stata una bella, bella soddisfazione anche quella. Questa, secondo me, è una, come posso dire, un'apertura al mondo, all'Europa, che non ci si aspettava. Quindi veramente una gran bella soddisfazione. Tra l'altro non è finita qua, perché le Juventus Women, Under 15 però, hanno vinto il Milano Open Festival. Milano Football Festival, in un girone anche lì unico, con Milan, Realmeda, Inter. Tra l'altro, ah, mi sono dimenticato, l'Under 13 ha vinto la finale contro l'Helsinki, perché mi sto rendendo conto, adesso sto guardando, che non l'ho detto. Contro l'Helsinki, squadra finlandese, vinta per 2-1. Invece, per quanto riguarda il Football Festival, la Juventus ha vinto, ha perso col Milan la prima partita del girone, poi ha vinto il 9-0 con il Realmeda e poi ha battuto l'Inter 1-0. Si è trovata a quel punto a rigiocare la partita col Milan, una finale, stavolta la Juventus l'ha vinta 1-0. Persa la prima 4-1, ha vinto comunque la finale, poi quella che contava di più 1-0, ha vinto questo trofeo, che è a livello nazionale, o comunque interregionale, però comunque quando batti Inter e Milan in un trofeo è sempre una gran soddisfazione. La notizia però, non me ne vogliono tutte le altre, un'altra notizia incredibile, le due imprese, come ho detto, sono quelle dell'Under 13 femminile e questa dell'Under 17. L'Under 17 ha vinto la Future Cup ad Amsterdam contro l'Ajax, è stata veramente una cosa inaspettata, inaspettata. L'anno scorso, secondo me, avevamo più possibilità di vincerlo, c'era Fagioli, Petraelli, eccetera. Siamo andati a giocare la Future Cup, l'anno scorso l'ho seguita tantissimo, più di quest'anno, e abbiamo, mi ricordo, fatto una grande Coppa, abbiamo fatto il torneo, abbiamo chiuso il girone a 9 punti, se non ricordo male, poi avevamo vinto la semifinale e poi ci siamo trovati in finale contro l'Ajax e l'Ajax ci aveva legnato 2-0 senza, oggettivamente, partita, ci avevano proprio massacrato. tant'è che avevamo capito lì che probabilmente il calcio italiano ancora era indietro rispetto a, parlo a livello giovanile, al calcio magari olandese o inglese. E invece questa Future Cup qua, che è il torneo più importante a livello di Under 17, io credo che a livello giovanile sia il torneo più seguito insieme alla Youth League. Basti pensare che c'era il VAR, che c'erano tante televisioni collegate da tutto il mondo, l'organizzazione poi è dovuta all'Ajax, quindi comunque lo spazio, i tifò, c'è tutto pieno, uno stadio, non era la Juan Cruyff Arena, ma era l'altra arena di Amsterdam, che adesso mi sfugge il nome, ma comunque dove l'Ajax fa tutte le partite del settore giovanile, e quindi è uno stadio prestigioso. E la prima volta che un'italiana vince questo trofeo, ma tra l'altro a prendere ancora più valore il trofeo, è che tu hai battuto comunque squadre, a mio avviso, dei tre settori giovanili più importanti, di tre dei settori giovanili più importanti, mettiamola così, che sono un inglese, una spagnola e un olandese appunto. Non abbiamo battuto una portoghese, sennò credo che sarebbe stato... con la portoghese avremmo battuto i migliori settori giovanili proprio, però quello era il girone voglio dire. Quindi la Juve ha battuto, aveva perso la prima con l'Ajax 1-0, e anche quest'anno sembrava che quell'1-0 lì fosse anche di misura, nel senso che l'Ajax poteva vincere molto più largamente. Poi la Juve si è rifatta battendo il Tottenham 1-0 e poi battendo 3-0 il Sagan Dosu, che dovrebbe essere una squadra coreana se non ricordo male, ve lo dico subito, Sagan Dosu, ecco Sagan Dosu, che è una squadra giapponese, non coreana ovviamente, giustamente devo dire la boiata. Quindi la Juve ha battuto il Tottenham 1-0, 3-0 il Sagan Dosu e poi si è trovati in semifinale. In semifinale ha affrontato l'Atletico di Madrid, che anche lei è un ottimo settore giovanile, lo conosciamo benissimo. La partita è stata veramente tiratissima, la Juventus ha vinto ad oltranza i calci di rigore. Dopo aver vinto i calci di rigore la Juventus si è trovata oggi pomeriggio a giocare la finale con l'Ajax, dove partiva ovviamente da sfavorita, dalla squadra che ne ha vinto una caterva, dall'organizzatrice, da una squadra che ha reso questo torneo, anche con i formi pubblicitari, probabilmente è il torneo under 18, perché c'è il Viareggio che è under 19 e un'altra cosa. La Youth League è under 19, diciamo che è il torneo under 18 più importante, senza probabilmente più importante del mondo attualmente. E la Juventus l'ha vinta con un 2-1, tra l'altro le curiosità, la Juventus è stata davanti sul 2-0, stava dominando la partita e è arrivato il 2-1 su un calcio di rigore dato dal VAR. Cioè stiamo parlando di un torneo under 17 col VAR. Cioè questo vi fa capire il blasone che ha questo torneo, non è un torneo con tutto rispetto che può essere il torneo quadrangolare, questo è uno dei migliori tornei del mondo, probabilmente il più seguito e più importante torneo under 17 al mondo, o under 18 al mondo, tendendo il 18 in giù. Cioè poi io farò, io ve lo dico subito, farò poi, come vi ho detto, io aspetto la finale di Coppa Italia Femminile, poi lunedì prossimo molto probabilmente farò il video post stagione della Juve facendo il bilancio su tutto. Quest'anno lo faccio prima e non voglio mettere in mezzo le fasi finali dei campionati nazionali giovanili, su quello ci arriviamo, ci arriverò poi a giugno e farò a giugno. Quando però farò il video settimana prossima è chiaro che quando parleremo del settore giovanile questi tornei peseranno perché comunque è una valutazione, io mai avrei pensato di vedere la Juve vincere questi tornei quest'anno. Quest'anno la Juve ha messo la bandierina su alcuni dei tornei più importanti al mondo, cioè ha vinto la Teitis Cup, il Viareggio con la Primavera Femminile, la Champions Girl Cup a Vienna e ha vinto la Future Cup. Sinceramente, tra l'altro la Primavera, che sta facendo una stagione pessima, ha comunque fatto il record, ha eguagliato il suo record di Youth League, cioè come piazzamento, cioè è arrivato a fare quello che nella sua storia aveva fatto una volta, solo nel Youth League. Quindi alla fine peserà, peserà perché oggettivamente quest'anno il settore giovanile, bene o male, qualche soddisfazione la facciamo portare a casa e come. Chiaro, poi peseranno anche la valutazione poi complessiva, io farò una valutazione complessiva finora, poi la complessiva di tutto verrà fatta sul settore giovanile poi fino alla fine dei campionati nazionali. Però si valuteranno i settori giovanili quest'anno queste cose qua. Ragazzi, non potranno non essere tenute presenti perché sono risultati veramente straordinari. Per chi non segue, i giovanili possono non dare peso a queste cose, ma per me che li seguo vi posso assicurare che, ragazzi, qua stiamo parlando di risultati storici e io mi auguro ripetibili, ma saranno difficili da ripetere. Saranno difficili da ripetere perché veramente non stiamo parlando di, ripeto, il triangolare con tutto il rispetto. Io rispetto tutti i trofei, rispetto tutti i trofei, anche quelli veramente meno importanti e non me ne frega nulla. Cioè, nel senso, io rispetto i trofei di tutti e esulto per ogni trofeo anche giovanile perché amo talmente tanto la Juve che veramente ogni volta che la vedo su è sempre una goduria. Ma qua, ragazzi, qua stiamo parlando, stiamo parlando veramente di trofei che non è scontato vincere. Allora, vi leggo, visto che ci siamo, visto che ci siamo qua, vi leggo i risultati delle varie Future Cup, visto che ce l'ho qua. Nel 2010 è stata fondata la Future Cup e l'Ajax aveva battuto la Cina, Under 17 ovviamente. Nel 2011 l'Underlecht ha battuto l'Ajax. Nel 2012 l'Ajax ha battuto il Manchester United dai rigori. Nel 2013 l'Underlecht ha battuto l'Ajax netto. Nel 2014 l'Ajax ha vinto 2-1 con Liverpool. Nel 2015 l'Underlecht ha vinto i rigori con l'Ajax 4-3. Nel 2016 l'ha vinto l'Arsenal 4-3 rigori con l'Underlecht. Nel 2017 l'ha vinto l'Ajax 2-0 con il Bayern Monaco. Nel 2018 l'Ajax batte Juventus 2-0 come vi ho detto prima e nel 2019 l'Ajax batte l'Ajax 2-1. Queste sono solo le finali. Come potete vedere l'Ajax è, come potete sentire, come vi ho detto, l'Ajax ha 5 vittorie, l'Underlecht ha 3, l'Arsenal e Juventus ha 1. Cioè pochissime squadre l'hanno vinta e sinceramente concedetemi di crogiolarmi per questo risultato. Champions World Cup addirittura un record assoluto perché è la prima edizione quindi la Juve vince per la prima volta questo torneo. Ragazzi io sono contentissimo di questi risultati. So che voi date più importanza alla Champions e alla prima squadra, giustamente, ma lo posso anche capire. Io però seguo la Juve a 380 gradi perché, ripeto, è una mia scelta, la amo alla follia, quindi quando vedo questi risultati godo, godo, godo ragazzi. Cosa posso fare? Ragazzi chiudo quel video anche perché sono andato ben oltre a quello che volevo andare, siamo qua quasi a 15 minuti. A me non resta che salutarvi e augurarvi ancora un buon inizio settimana, visto che tra poco si ricomincia a lavorare e fino alla fine Forza Juventus.